Ciao a tutti, oggi vi voglio insegnare come connettere la GoPro Hero 3, perché è dotata di Wi-Fi, alla GoPro App. All'inizio la GoPro App c'era solo per iOS e adesso è uscita anche la versione per Android, eccola, questa qua, GoPro. Quindi cominciamo subito, vado a togliere la GoPro dalla sua case, poi l'accendiamo tenendo premuto davanti, premiamo il tasto davanti finché non arriviamo all'icona delle opzioni, premiamo il tasto sopra per dare ok, poi premiamo il tasto davanti finché non arriviamo all'icona, questa qua, wireless controls, e premiamo ok. Premiamo ancora ok, quindi siamo entrati nelle opzioni del nostro Wi-Fi, andiamo con questo pulsante qua a premere finché arriviamo a GoPro App, e premiamo ok. Quindi adesso lui si è acceso Wi-Fi e noi infatti se andiamo dal nostro cellulare, andiamo ad accendere Wi-Fi, andiamo nelle impostazioni del Wi-Fi, dovremo la vostra GoPro, come l'avete rinominata in precedenza quando vi siete fatti l'account, quando avete, perché la GoPro 3 al momento della vendita, dovete fare l'aggiornamento soft e l'aggiornamento firmware per poterla appunto connettere alla GoPro App. Quando avete finito l'aggiornamento vi chiederà appunto il nome della vostra GoPro e la password, che saranno quelle appunto le Wi-Fi. Quindi io ora sono connesso alla mia GoPro, che si chiama Paolo GoPro, quindi posso pure uscire da qua, sono connesso al Wi-Fi, e adesso andiamo in GoPro, e vado qua, vedete appunto cosa sta registrando la vostra GoPro. Un po' di ritardo c'è ovviamente, anche se non è molto, dai, se permette sullo schermo andate a ingrandire, potete pure girare, e quindi adesso lasciamo qua fermo la nostra GoPro, da qua potete, avete un'idea di tutte le impostazioni che avete nella vostra GoPro, quindi video risoluzione, framerate, da qua diciamo che è un po' più facile settarla. Quindi avete tutte le opzioni che trovate nella GoPro, solo che sono distribuite in modo più semplice, e niente, potete anche far partire i video e tutto. Per oggi è tutto, ciao a tutti.